Manuel Pantalone ha approvato il regolamento per il prurinegozio in Commissione. Di cosa si tratta e quali sono i tempi? Un regolamento che insieme alla Presidente della Commissione Commercio, Barbara Di Roberto, abbiamo fortemente voluto. Intanto abbiamo approvato il regolamento nelle Commissioni Congiunte, Commercio e Statuto del Regolamento. Il prossimo passaggio sarà quello consigliare. È una grande opportunità perché riteniamo che possa essere davvero di supporto all'iniziativa imprenditoriale e commerciale della nostra città perché ovviamente ci sarà la possibilità di nuove aperture di attività commerciali, di più attività all'interno di uno stesso locale, il che significa poter dimezzare o ancora in maniera maggiore, qualora le attività fossero più di due, anche rendere di un terzo l'impatto del canone di locazione di un locale commerciale ma anche di quelli che sono i tributi locali. Insomma è un modo per investire sulla città, per incentivare proficue iniziative commerciali nella città stando vicini ai giovani imprenditori, a coloro i quali vogliono cimentarsi nell'attività improprio. Un rimedio anche a quello che è il subappalto? Ma più che altro diciamo che è una soluzione perché noi riteniamo che questo regolamento possa davvero implementare le nuove aperture in città. Già la nostra città ha dei dati molto positivi sul commercio, soprattutto nell'ultimo anno, che certificano l'ottimo lavoro che come amministrazione e come assessore al commercio stiamo e sto compiendo. Devo dire che ovviamente queste iniziative sono volte proprio a implementare e a fare in modo che le attività possano beneficiare di nuove opportunità. Ovviamente in questi anni abbiamo fatto tanto sotto il profilo delle iniziative finalizzate al commercio, sotto il profilo degli eventi insieme al nostro vice sindaco De Cesare. Insomma stiamo cercando veramente di fare in modo che la nostra città sotto il profilo commerciale, sotto il profilo di quello che è il suo tessuto economico, possa ripartire. Lo facciamo insieme alla categoria, lo facciamo perché le sfide che ci attendono sono importanti.